I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco alla vittoria. Il Camp Nou è uno degli stati più famosi e capienti del mondo e qui è stata fatta la storia del calcio. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Oggi Fabio ho gli occhi puntati su Alvaro Morata, quello che potrebbe essere il futuro protagonista dell'attacco spagnolo. Una prima punta mobilissima che sa tenere il pallone, ma soprattutto si muove in maniera intelligente sul fronte offensivo. Si dimostra sempre cinico sotto porta, veramente un attaccante completo. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Qui c'è il chiaro al tiro e c'è il giocatore Spagna. Un tiro pazzesco, ha preso un giro follo e si è insaccato. Semplicemente fantastico. Certo con i palloni di oggi fare più tiri, fare più effetto e più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissime esercizioni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.